E' stata coltivata dal Vignano nel Casertano, la zucca più grande della Campania, avendo raggiunto un peso di 544 kg ufficializzati al campionato italiano. E' stata coltivata da Danilo Squitieri, al prestigioso concorso di Pondedera è arrivata invece al secondo posto, al terzo è finito Salvatore Castella di Cagliazzo, un altro casertano, con un peso di 489 kg. Ed infine, sempre un casertano, Vincenzo Italiano di Dragoni al quarto posto, con 428 kg. Per questa importante coltivazione è nato addirittura un club, noi abbiamo sentito, per saperne di più, Vincenzo Italiano, il primo che si è cimentato con questa cultura, e il coltivatore dei record Danilo Squitieri. Allora, Italiano, come è possibile riuscire poi a coltivare queste zucche così grandi? Va bene, allora, in principal modo si parte dalla scelta genetica del seme, quindi si va a vedere un attimino chi sono stati i suoi predecessori, la genetica dei nonni, ancora dei trisavoli, delle zucche, si parla sempre delle zucche. Si va a vedere un po' le caratteristiche che hanno acquisito nel loro percorso di crescita. Una volta scelto il seme, è determinato quale cultura mettere, quindi quale varietà andare a posizionare nel terreno, si parla di nutrimenti. Ecco, i nutrimenti vogliamo sapere? I nutrimenti vanno gestiti in un modo particolare e possono variare da terreno a terreno, quindi ogni terreno ha le sue caratteristiche, le sue specifiche e quindi va analizzato attentamente e vanno inseriti elementi mancanti per far sì che questa zucca possa crescere nel migliore dei modi. In sintesi, si tratta di concimi oppure di ormoni? Non è vero. Allora, parliamo di sostanza organica, l'apporto di grandissima sostanza organica al terreno, quindi creare microorganismi. Qualcuno che è entrato nel mondo delle micorizie sa qualcosa, i famosissimi tricoderma, sono alla base della crescita di una buona zucca. Questa zucca dove è stata coltivata? Quella che abbiamo visto nelle immagini? Questa è una zucca che ho coltivato io nel mio giardino di casa a Dragoni, è una 1795 miller impollinata per self. Cosa significa esattamente? Allora, l'impollinazione è data dal prelievo di un maschio, far sì che possa essere femondata in realtà proprio la zucchetta sulla pianta. Si possono scegliere vari modi di impollinazione. Io ho preferito il self per una scelta caratteriale di riportare gli stessi geni della pianta al figlio che gli nasce. Mentre ho prestato il mio maschio, il mio polline, per far sì che il mio amico qui presente, Danilo, ha potuto coltivare la sua zucca che ha dato vita al record campano con i suoi 544 kg. Ecco, una zucca fino a quando può pesare? Parliamo non solo a livello di campania naturalmente. Allora, a livello nazionale abbiamo il grande Benny Mayer con una 2332 libre, 10 quintali e 54, record mondiale battuto in Svizzera. Ma le devo essere sincero, in questo preciso momento, in questo preciso momento in Germania, al castello di Lewisburg, stanno decidendo un pochettino, stanno analizzando, vedendo, perché domani c'è la pesa EGVGA. E' una pesa importantissima dove di sicuro ci saranno delle sorprese mondiali. Dalle nostre notizie, un po' trapelate da qualche amico che si trova lì presente sul fatto, abbiamo avuto delle informazioni che fanno ben sperare a due fratelli belgi, che Mattias e Bruno Williams, che di sicuro daranno modo che anche l'Europa si possa esprimere nel contesto americano. Ok, Danilo, come nasce la passione per la coltivazione della zucca? Beh, nasce girando su internet, mi sono imbattuto in un articolo di Vincenzo Italiano, dove diceva che coltivavo queste zucche gigante. Quindi ho cercato Vincenzo Italiano, mi sono messo in contatto con lui, dove mi ha iniziato a dare qualche seme e iniziato a coltivare questa zucca, fino a che mi sono migliorate le mie prestazioni. So che avete un club. Sì, abbiamo un club fatto qui in Campania, dove ci consigliamo come concimare e come allevare al meglio queste zucche. Sì, abbiamo un club fatto qui in Campania, dove ci consigliamo come allevare al meglio queste zucche.